per carità come prevedevo uno secco del milan proprio con la pipa in bocca se proprio depresso risolata vede sta squadra per carità ormai libro scritto sta squadra che poi non avresti manco cercato male soprattutto i primi dieci minuti del primo tempo dopo il 2 a 0 certo è che se dopo giochi solo a pezzetti e gli avversari vanno a nozze anzi aggiungo io secondo me il milan ha sprecato davvero tantissimo per quanto ha tirato secondo me non so che dire mi sono rotto letteralmente i coglioni sinceramente parlando mi sono rotto letteralmente le palle porca puttana adesso qualcuno dirà ma le prossime pareti hanno facili non me ne frega un cazzo tempo che ti continua a perdere porca puttana contro tutti e tutto e mi sono rotto leggermente i coglioni sinceramente parlando porca puttana e quindi sicuramente tanto ci ma avanti così perché tanto non ci sarà nessun esonero perché in giro c'è poca gente purtroppo dalle naturi buoni e quindi stiamo così fino a fine campionato tanto oramai peggiori così potremmo fa migliori in campo adri giro ernandez pellegrini sì sono d'accordo ma davvero male male mi ricordo campionati di merda ma come questo sinceramente solo solo peggio solo quello del 2005 mi ricordo altri campionati del 2012 2013 2009 anche che è stato un gran che però come questo davvero desolante davvero desolante se vede sta squadra sinceramente può magari fai anche qualcosa ma se porti appunti dice fincazzo porca troia puttana e quindi niente per amai so desolato desolato è la parola giusta depresso un altro aggettivo omonimo porca puttana vede sta squadra del cazzo paghiamo un mucchio le soldi per vede incazzo per amai so desolato qui porca puttana intanto noi hanno pagati che cazzo se fregono se ne fregono cazzi se ne fregono un cazzo lui bei gol quelli termina soprattutto il 3 a 1 dei dietro ernandez porca puttana si è girato oggi lui noi altri invece ne girammo i coglioni si è ingirate le palle tra noi altri si è ingirate le palle porca puttana porca troia quell'imbalsamato era in tribuna con gli occhiali a vedere i porni a vedere porca puttana mi sono rotto leggermente le palle porca puttana adesso voglio sentire se c'è qualcuno che chiacchiera tu qui voglio sentire che dicono perché tanto tu qui si chiacchiera solamente ma non si fanno i fatti non si fa un cazzo nessun fatto porca puttana e mi sono rotto le palle punto e basta tanto dimmo sempre le stesse cose finché rimarrà quell'imbalsamato in panchina sta squadra rimarrà sempre tale uno a schifo porca mignotta e mi sono rotto i coglioni punto e basta c'è nient'altro a dire gioco partita incontro 3 a 1 e tutti a casa siamo quasi alla parte destra della classifica con morigno fino all'inferno a riscrivetelo un'altra volta a riscrivetelo un'altra volta guarda dove siamo al nono posto con 29 punti ragazzi porca puttana qualcuno dice si ma siamo a 5 punti della 100 si ma continuiamo a perdere non so se vi è chiaro porca puttana continuiamo a fare schifo pochi altri porca troia e quindi niente c'è ben poc'altro a dire sinceramente mi sono rotto il cazzo di pagare di vedere non schifo il campo di vedere sempre sconfitte non vede mai nessuna sorpresa perché sta squadra ti sorprende quasi mai porca puttana uno ci spera sempre ma si armangi sempre con l'illusione e la disillusione e i sogni che diventano incubi in questo caso perché questa è una stagione da incubo porca puttana e quindi niente Milan ovviamente ha meritato anzi come ho detto prima avrebbe potuto fare molti molti più gol ha preso anche un palo tra oltretutto quindi con Musa e una parera e quindi niente pesi appallonati adesso la manca da tutti quanti adesso vediamo le conseguenze quale saranno per nessuna perché tanta Roma nessuno si assume le responsabilità di fare un atto che sarebbe che dovrebbe essere fatto durante sa quanto tempo quello le manda via quell'imbalzamato un panchina porca puttana in questo caso in tribuna che è meglio che sta il più lontano possibile da Roma porca puttana ci armanesce a Milano porca troia stagiamo con Foti piatta di Foti come primo e via che eccoli a sto punto che tanto dramai campionato è bene che giro porca puttana c'è nient'altro da fare uno schifo immuno che si ha letteralmente appallonati e continuiamo a difendere sta robaccia continuate continuate perché io continuo io 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 sono sempre coerente con me stesso porca puttana oramai da un anno più ve l'ho capita il primo anno ce l'ho caduta anch'io ma dopo ho capito la sinfonia ho detto tu qui mi sa che non quadrano le cose porca troia e quindi niente unesimo scienze unesima schifezza unesima sconfitta unesime prese per il culo che tocca subire ogni volta da tutti quanti palle in testa da tutti se a Presidenti sta bene sta cosa facessero loro io sinceramente mi sono rotto letteralmente le palle e basta sono intanto lì tanto dimmo sempre le stesse dimmo sempre le stesse dimmo sempre le stesse dimmo sempre le stesse porca puttana campionato più schifoso di questo mai visto porca troia e ancora mancano molte le giornate mamma mia ragazzi mamma mia ragazzi vabbè chiudiamo qui tanto c'è incazza altro da dire sinceramente Roma che perde 3 a 1 malamente secondo me vediamo un attimo la prossima contro chi cazzo diciamo parola il verona se non sbaglio dopo c'è manca il cagliari di costruzati allora calendario eh sì Roma verona facciamo quella cazzo manco con lo shabab che cazzo è qui lo shabab porca puttana perché babbaro marito ha letto va per carità è tutto è tutto un ciuccia soldi il calcio è diventato tutto un ciuccia soldi porca puttana dopo facciamo la salernetana e dopo il cagliari ecco e dopo c'è l'inter e viene da ridersi che non gli piangere proprio e quindi niente appuntamento alla prossima sempre 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 forza Roma ma è te hai rotto letteralmente le palle